Tutti i dati sono positivi, peraltro è positivo il mercato, quindi siamo assolutamente allineati alla crescita del mercato. È un salone in crescita forte, è un salone, ve lo spiegheremo, anche migliorato dal punto di vista dell'organizzazione e del layout, perché quando tutti i segmenti hanno una massa critica importante si può veramente riorganizzare il salone alla grande ed è quello che abbiamo fatto. Per cui ve lo anticipo, la valenza più grande che caratterizza questo salone è che passiamo da un salone generalista a un salone multispecialista, vi spiegheremo come.